Porsi il problema di una messa in sicurezza delle nostre città significa anche porsi il problema di una messa in sicurezza di questo straordinario patrimonio di boschi e di foreste che caratterizza tutto il nostro territorio, dal Trentino alla Sicilia, dalla Val d'Aosta alle Marche, alla Basilicata alla Sardegna. Abbiamo un patrimonio straordinario che non sappiamo sfruttare, utilizzare e conservare. Abbiamo un patrimonio che potrebbe creare le ragioni per un sistema di filiere produttive che potrebbero avere il legno come elemento fondamentale, cioè un materiale leggero, un materiale sostenibile, un materiale che si inserisce perfettamente in una logica di economia circolare. Questa è la ragione per cui consolidare il paese utilizzando il legno delle nostre foreste è una delle grandi sfide dei prossimi anni.